Suo padre era tra i cento e oltre o poco sotto, a seconda dei conti più o meno ufficiali che in piazza Maidan hanno trovato la morte un anno fa. Il presidente Poroshenko lascia la ribalta a un bambino quando è il momento di illuminare il memoriale dedicato alle vittime. La piazza indipendenza di Kiev ha ricordato un anno dopo il tributo di sangue pagato in quei moti che portarono alla caduta e alla fuga dell'ex capo dello Stato, Viktor Yanukovych. Il 2015 sarà un anno decisivo per realizzare cambiamenti fondamentali nel costruire una nuova nazione. E io sono sicuro che l'Ucraina vivrà in pace, crescerà e sarà più europea. Queste le promesse del presidente che è stato anche fischiato da una parte della piazza. A un anno di distanza il paese non è certo regno di pace e prosperità. I conflitti con i separatisti nell'est hanno relegato in secondo piano quei problemi che hanno scatenato le proteste di Maidan. Corruzione diffusa, economia in profonda crisi. Oltre alla firma dell'accordo di associazione con l'Unione Europea negata da Yanukovych dal 20 febbraio 2014, ben poco è cambiato.